Sono particolarmente lieto di essere stato eletto presidente della Commissione Civex e di essere stato eletto alla unanimità. Indipendentemente dal colore politico, tutti i membri del Comitato mi hanno dato fiducia. Una commissione che è straordinariamente importante, io ne ho fatto parte dall'inizio del Comitato delle Regioni. È la commissione che si occupa delle città, del diritto di cittadinanza, ma si occupa contemporaneamente di altre grandi questioni, come quello delle migrazioni per esempio, come la questione relativa ai rapporti di vicinato, come le questioni relative per esempio alla sicurezza e anche alla difesa. La priorità sarà porre al centro del lavoro della commissione il fatto che devono essere ascoltati di più i cittadini dagli altri organi europei. Qualche volta l'Europa viene percepita come lontana, come burocratica, come fredda. Noi dobbiamo portare la voce dei cittadini e i comuni, gli enti locali e le regioni più forti a Bruxelles, significa che la voce dei cittadini sarà più ascoltata. La Sicilia è una regione al centro del Mediterraneo e in tutte le grandi questioni è al centro. E io porterò la mia esperienza di chi è stato per molti anni sindaco di Catania anche qui a Bruxelles. Anzitutto per far sentire che il tema del cambiamento climatico è il tema numero uno dell'Europa e del Mediterraneo. Il Mediterraneo si alza, vede alzare la sua temperatura ogni anno un 20% in più di quanto si alza la temperatura degli altri mari. E questo sta provocando in tutto il Mediterraneo, dalla sponda africana a quella europea, dei disastri veramente incredibili. Dobbiamo occuparci tutti insieme senza lasciare e delegare il tema del cambiamento climatico. E insieme con questo è il tema della migrazione. Non è finito il dramma dei migranti. Occorre consentire il passaggio da una immigrazione illegale, affidata a organizzazioni criminali prevalentemente, a una immigrazione legale e controllata. Come feci in Italia quando ero ministro dell'interno, stabilendo delle quote, perché l'Europa ha bisogno di avere mano d'opera che viene dagli altri paesi, ma lo deve fare in un modo ordinato e preciso. La mia esperienza può essere utile in questo senso.